Bottigliette, fazzoletti, preservativi, resti di cibo. La strada di Gerbido, abitualmente frequentata da prostitute, è l'ennesimo angolo di abbandono che scopriamo grazie alle vostre segnalazioni all'indirizzo email contributiweb.chioccelaliberta.it. La strada presenta quasi 200 metri di profondo degrado su entrambi i lati. Ci sono anche i resti delle pastiglie che si utilizzano in estate per allontanare le zanzare, a conferma che il viale è lasciato a se stesso da diverso tempo. Una discarica abusiva poco distante dalle nostre case lamentano alcuni residenti della piccola frazione di Crocione. L'assessore Giorgio Cisini è stato interpellato a riguardo. Annuncia che chiederà a Direnna di effettuare un sopralluogo. Le situazioni di degrado sono monitorate dagli uffici Quicca ai quali i cittadini possono rivolgersi. Il comune, precisa, svolge circa 10 interventi al giorno per la manutenzione delle strade. Purtroppo questi interventi di rimozione dei rifiuti richiedono tempo. E hanno anche un costo perché non fanno parte della normale raccolta.